Affreddiscue Non ho fatto le due dita Yeah! Finalmente Ma ragazzi siamo nell'ultimo episodio forse di FNAF2 Quindi direi di Ok, ragazzi devo farmi il coraggio E' la quinta notte e io voglio essere coraggioso Ma che lo faccio? Vabbè, devi partire E' la quinta notte Perfetto E' la quinta notte E' la quinta notte La quinta notte E' la quinta notte E' la quinta notte Ma ragazzi Siamo in un ufficio Come sempre Non mi aspettate Finire Perfetto con il gioco perchè non posso più spero di finire con il gioco perchè ecco i calci ecco per forza il gioco e lo sapevo io sconso va finito ecco ho caricato al massimo il carrion ecco 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 Ma come? Ma che mai sono subito la macchina? Oh mamma mia Ah, apica Ah Sì. Che palle. Oh, non mi saltare a gosso, Wither Foxy. Non saltarmi a gosso. Non saltarmi a gosso, mi cazzo. Ok. A me ho qua, tutta la qua. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, sì. Foxy. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Eh, ragazzi, non ho voglia di mettere il mouse di Freddy. Cazzo, guarda, coglioni, spacco le buchella che non ce l'hai. Ma mia, mi voglia di mettere il mouse nel nostro Freddy e farci di più. Eh? Facciamo così. C'è la comedia che metto la notte così in modo che finisca il gioco, eh? 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 Senti, posso parlare un attimo di scococco? Cazzo, scococco? Perché non hai messo le porche? Eh? 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 Non hai messo le porche? Eh? Il gioco? Eh? Mamma mia! Non hai messo le porche? Oh, una scuola, c'è le porche. Scocco, mi fa capire già di mettere una scuola e mettere le porche? Qualcosa, un inferno. Oh! Vabbè. L'abbè. Ehi, ragazzi, non sapete voi che chiacchierete a fare? Eh sì? Sì, sapete chi sono io? Eh? Uno nasce da qualche mamma? Eh? Eh? Sì! 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 Semi-Fingerard, 5 dollari, welcome to the family, cross-back to the family. Ok. Cosa? La sesta notte? Ma mi stai pisando qui il culo magari? Eh? La sesta notte? C'è con dei freghi! Ragazzi? Io sono furbo! Ragazzi sono un altro furbo! So come si è accaduto la sesta notte! So come si è accaduto la sesta notte! Sono furbo! Ah! Ah! So come si è accaduto la sesta notte! 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 So come si è accaduto la quinaλη! lì la si hanno smantellati e quelli vecchi vengono vengono così aggiustati aggiustati allora vediamo che è scomunato com'è perché è blu allora allora bamboni vediamo un po' allora cosica che carina cosica voi non sapete ma cosica è il mio anima con il corpo preferito eh cosica che il corpo è il corpo preferito si eh si si non ce l'ho detto perchè i compagni come Wither Freddy Wither Bonnie Wither Shica Wither Foxy e Balboi e...Mungle no e anche Balboi ah mi hanno fatto un pochino ah quindi è meglio che forse è meglio che così eh beh così che sono un po' il corpo preferito eh si 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 eh si 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 o per poi eh knife foxy foxy laddys knife fredyscircus Cupcake Challenge First Man Forever Allora Ok Bene ragazzi Io sono quello che è qua Mi raccomando Abbiamo 3000 like Per questo episodio A questa Voglio terminare il video con il mio Ma quello preferito A questa un attimo No Tu sei bruco ma peggio No a questa Finisco con il mio Ma quello preferito Cosica Cosica Si Cosica Ma ragazzi È vero che sono quello che è qua È vero che sono quello che è qua Mi raccomando Spollisciate Spollisciate Ma Non è che non vuole I cagli like Eh no eh Forse No Che vuoi sclu È Ciao ragazzi Che vuoi scu